L'intervento del consigliere Putino mi sembra esagerato, perché con quello che ha dichiarato evidentemente il consigliere Ciancio, presidente della Commissione Scuola, che lavora verso la scuola, non potrà più partecipare alla Commissione Scuola, la consigliere a Tredicine per il commercio, il consigliere Cugliotto per quanto concerne la sanità e il consigliere Tutino, che è stato il promotore di questa iniziativa, non potrà partecipare quando si tratterà di assoluto. Ci dispiace perché si sta violando l'interesse privato. Grazie.